Tutto pronto? Si apre le gabbie, partiti! Cavalli dell'ultima corsa del pomeriggio. Più veloce a partire è State of Play che si porta subito al comando, accompagnata all'esterno da Strip Girl. In terza posizione troviamo Kelinze a precedere in quarta, Cappuccino Bape con la giuba bianca e rossa, Future Strategy a precedere in sesta posizione all'interno alias De Grif. Poi a completare il quadro dei partecipanti troviamo anche Broughton Excels con Galateo d'Arcadia che chiude in coda al drappello dei partecipanti. Primo parziale piuttosto brillante, imbastito da State of Play che galoppa in una fascia centrale. All'interno ci sono Strip Girl e Kelinze. Poi all'esterno troviamo anche la figura di Cappuccino Bape. Tra questi To Do Suck, poi ancora Future Strategy. All'interno c'è alias De Grif, Broughton Excels, Old Sweet e poi Galateo d'Arcadia. Si va così velocemente ad affrontare l'ultimo tratto della curva. Si entra addirittura con Kelinze che ha guadagnato qualcosa lungo la corda nei confronti di State of Play. Percorsi esterni si fa subito sotto Strip Girl. Poi ancora To Do Suck, percorsi ancora più esterni. Ci prova anche Old Sweet quando siamo a 500 dal traguardo. È il leggero vantaggio State of Play nei confronti di Kelinze. All'esterno si impegna anche Strip Girl. All'esterno di tutti, al centro della pista c'è Old Sweet con cavalli che sono a 250 dal traguardo. Old Sweet che sferra l'attacco rispetto a State of Play. Anche Kelinze insieme a Strip Girl, 4 cavalli in lotta ma dall'esterno è passata in vantaggio. Old Sweet che chiude la partita a 50 al traguardo. È ben salda al primo posto nei confronti di State of Play e per il terzo Kelinze. Per Old Sweet prima vittoria in carriera in 23 corse disputate in sella. Damiano Poggi, i colori sono quelli di Aristide Lazzoni. Training di Giuseppe Di Chio. 9 al primo posto, poi al secondo il numero 3 State of Play. Al terzo troviamo il numero 8 Kelinze. Quindi numericamente l'ordine d'arrivo recita così. 9, 3, 8 e da capanelle è veramente tutto. Riapprezziamo le battute conclusive con Old Sweet che dall'esterno trova una fascia molto più galopabile. e si regala la prima fotografia della sua carriera per prima in 23 corse disputate. Non era mai riuscita a vincere. Eccola qua. Servita a scendere in gentleman per collezionare la prima affermazione in carriera. Damiano Poggi, perfetto interprete. Al secondo posto State of Play, al terzo Kelinze. Da capanelle è veramente tutto. Gabriele Candi vi ringrazio, vi auguro buona serata. E vi dà l'appuntamento alla prossima giornata di corse in questo ipodromo. Martedì 16 novembre. È tutto. Grazie a tutti.